nell'episodio precedente ma è bellissima la Val Gardena no, c'è l'asfalto questo qua è un telefono anche il briciolino, uh, ghiaglino ma proprio adesso che cominciano i tornanti seria? stupida porca carintornante amica porca facci passare no, ma tu non hai un cuore, veramente ciao caro oh no, aspetta che torno su, troppe crepe ciao, bellissimo wow, beh, 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 ma è un circuito questo non è un passo ah, carina è quella di nuvole non avrà mica voglia di pisciare ciao amici la crepa vai zio, vai che bravina lei vengo a metterti un po' d'anze ciao ciao il suo scarico mi fa sputtanare fa plop 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 che rottura di coglioni amici carabinieri buongiorno si eccolo lì il suo tipello aspetta, l'ha maleducato ma faccio sputtanare fate amicizia ciao amico tedesco francese ciao amico francese ho portato un bidet per te ciao amico francese Grazie a tutti Grazie a tutti Che rincoglionito che non è altro Oddio Gesù Coglione We are ready Madonna Urca Subito un altro a sinistra Ti prego No 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 Non ho la targa Ah no È ancora passata un po' lungo Beh più di 20 km orari Secondo me non li fanno Magari in discesa Che Passonzolo Oh no Occhi occhi Orvelo Al autobus E' un ciclista in mezzo ai coglioni Noi troviam Ma loro lo sanno che sono in mezzo ai coglioni E lo fanno opposta O qualcuno le lo deve dire Guarda 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 Qua Vuole superare anche lui oh la la queste sono le buone notizie che vogliamo che bello non vedere la curva così ti ho già perso occhio che è stretto questo non so se mi senti eh si è stretto dai coglioni dai no che qui ci sono dei tornanti belli 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 eh lo so questa è stata brutta non potevo non farlo madonna mia che bello che roba ho avuto un piccolo orgasmo qui c'è sia salita che in discesa che roba vola ho tornante numero 16 a quanto pare porca vai uomo vai 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 che roba questi sono impegnativi ho perso il contatto ok calma moto calma imposta gas costante e via tutto ma che roba ma che roba spaziale mi fermo un attimo qui per fare una foto aiuta 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 non siamo riusciti a partire prima dell'arrivo dei va bene dai vai che adesso ti mangio colazione madonna vini qua come osi superarmi 8 va vai vai questo qui ha deciso di spingere la bici mi sa che hai sbagliato sport zio bellina dai oh porco cane stavo per prendere il paletto in pieno oh 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 ho troppo bisogno di fare questi ultimi 13 tornanti madonna mia sono belli larghi si può provare il ginocchio eh oh non sa oh ho chnow moto 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 Attenzione, credo che al moto moto ti piaccia molto Ciao caro Guarda che bello come tiene bene questo asfalto Si vede che è del posto, è autoctono Che rabbia Bello, mi è piaciuto, molto trafficato, ma carino dai Carino, carino Mi aspettavo molto di più da questo sella ronda, non so perché Si Si, forse per il traffico Dai, domani mattina mi sbaglio le sai Madonna Mi si era un attimo aperta la vena Sei sparita Mi eh Il passivo c'è Sì Grazie a tutti.